Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di danzare per 10 secondi sulla pista da ballo a Doposhi. Doposhi si trova qui, non potete assolutamente sbagliarvi, è l'unica abitazione in gioco che spara i neon nel cielo. Dovete venire all'interno qui, mettervi su questo, diciamo, tappeto luminoso, su questa pista da ballo e usare una qualsiasi emote per 10 secondi, in qualsiasi modalità. In questo modo completerete la sfida.